Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video. I temporali stanno arrivando forti. Può causare gravi danni in queste aree. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci prima con ammirazione per questo video e iscrivendoti al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo. Grazie. Se si preparano da ora. Un'intera settimana di forti temporali in Italia. A partire da domenica 13 agosto 2023. Almeno fino al 20 agosto 2023. I modelli digitali globali indicano un aumento significativo delle temperature nelle prossime ore, soprattutto nel nord Italia. Ciò comporterà la formazione di convezione, che si tradurrà in un'esplosione di bombe da forti temporali, soprattutto nel nord Italia. E in misura minore le regioni centro-meridionali. Pertanto, non lasciarti ingannare dal clima caldo e stabile nei prossimi giorni. Perché il tempo cambierà completamente durante il periodo serale. Il maltempo tornerà prepotentemente sulle regioni settentrionali d'Italia in particolare, con il rischio di restituire grossi chicchi di grandine. E il rischio di riallagamento. Pertanto, la prudenza è altamente richiesta. Come ho detto, questi temporali inizieranno da domenica e lunedì. Lascia che le tempeste si intensifichino di più mercoledì 16 agosto 2023. Andrà avanti almeno fino al 20 agosto. Con abbondanti piogge, soprattutto nelle zone di confine con Francia, Svizzera e Austria. E regioni settentrionali. Per quanto riguarda le regioni centrali, saranno meno colpite da questi temporali dopo il 16 agosto. Pertanto, si avvisano in particolare tutti i residenti nelle regioni del nord Italia. Perché lì le tempeste saranno più potenti e violente. Questo dalla sera di domenica 13 agosto fino almeno al 20 agosto 2023. Seguiamo momento per momento tutti i nuovi aggiornamenti. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.